Questa cupola è semplicemente incantevole o può essere considerata un autentico capolavoro. È straordinariamente bella e rappresenta il simbolo della magnificenza e della perfezione divina. Si erge imperiosa in cima alla Basilica di San Pietro. La più importante e famosa chiesa cattolica del mondo sorge nel cuore del Vaticano, considerato il fulcro della chiesa cattolica romana. Qui risiede il Papa. Nel panorama cristiano è considerato una guida spirituale per oltre un miliardo di uomini. Da duemila anni tutte le chiese cattoliche del mondo ruotano intorno al Vaticano. All'interno delle sue mura e tra i meravigliosi giardini vaticani il tempo sembra essersi fermato. All'interno delle sue mura. Grazie a tutti.